Ciao, benvenuto in questo nuovo episodio di Pimp My Website. Lui è Fabio Gallerani. Tu è Matteo Pintaluga e insieme in questo show analizziamo il tuo sito web e ti aiutiamo a pimparlo. Cosa vuol dire Matteo Pimpare? Vuol dire fatturare di più. In altre parole, migliorare il tuo sito a livello grafico e a livello strutturale per attrarre più clienti e ovviamente vendere. È uno show divertente ma allo stesso tempo super educativo dove andiamo ad analizzare i siti web dei partecipanti, diamo delle dritte e vediamo come pimparli, come diciamo noi. Allora, oggi ospite dello show mineralplex.it. Entriamo e facciamo immediatamente un'analisi a livello di branding da parte di Fabio nei primi tre secondi. Capisci di cosa si tratta? Allora, il tuo benessere è prima di tutto. Conosci, analizza, risolvi. Mi sembra un servizio di psicologia. Chiaramente non abbiamo visto questi siti prima dello show. Facciamo posto proprio per dare un giudizio oggettivo. Il logo mi sembra un logo... Da integratore? Da gaming. Da gaming? A me sapeva di integratore. Ma è quasi un gioco di ruolo. Quindi non è chiaro il brand. Partiamo da questa analisi. Non è chiaro il posizionamento. Conosci, analizza, risolvi. Non vuol dire nulla. Vedo un atomo che è svolata. Sotto analisi del capello e urofecale. Ecco intestinal plus. Cappello e urofecale sono corretti. Aspetta, ti chiedo a te. No, non lo so. Io ho bisogno di analisi del capello perché sto veramente cercando chi mi analizza il capello e che vuole trapiantare il capello per migliorare. Urofecale. Poi dice ecco intestinal plus. Non ho capito. Sembra quasi la stessa cosa ma chiaramente urofecale non è l'analisi del capello. Quindi qua mi confonde. Riferitazione, selezioni personalizzate. Ok. Selezioni, integratori, nutraceuci. Il processo ci sta. Però non capisco chi è l'avatar. Cos'è l'avatar? L'avatar è la persona a cui vogliamo rivolgerci. Cioè a chi vogliamo vendere. Mineral Plex. A chi vende? Questa non ha una risposta. Vedo una sfera di potere che appare con il logo. Chi siamo? Attenzione. Mineral Plex. E così tu hai un attimo di eccellenti professionisti e aziende poliediche che propongono vari test di capello, urine e feci totalmente eseguibili da casa autonomamente. Cosa c'entra il capello con il resto? Questo è ancora un dubbio. Anita. Ci mette la faccia. Ottimo. Questo è il pezzo migliore del sito per adesso. Quindi Anita tra l'altro è un'autorità. I nostri servizi per te. Mineral Gram. Questo sito ha bisogno di essere un po' più impatti. Quali sono i benefici del Mineral Plex? Ah io non capisco. Perché devo fare questa analisi? La gente ha paura di fare le analisi. Sono un attimo sperduto. Allora, non capisco a chi è dedicato. Non capisco cosa vendete effettivamente, se sono consulenze o mi vendete i prodotti, questi test che me li faccio a casa. Non è chiaro nulla. Ok? Quindi faccio proprio fatica a capire. Questa forse è la loro storia. Chi siamo? Ecco, vedi. Nostro team. Però qua se parli del team, mettici la faccia, le foto del team. Ci sento con la mascherina che scappa. La nostra vision, la nostra mission, i nostri valori, i nostri sette chiavi qui. Questo è completamente da rifare a livello grafico. Esseri umani assenti. Sono blocchi di testo infiniti. Però attenzione, questa analisi spietata che facciamo chiaramente con l'autorizzazione dell'imprenditore che ci ha mandato il sito, che ha accettato di ricevere un'analisi così, è per dare un aiuto, nel senso che un sito web online che non ha chiarezza può distruggere un brand. Quindi spieghiamo perché avere un sito web non chiaro e soprattutto non ben posizionato, che non significa che appare su Google, ma posizionato significa che mi dice cosa fa, può distruggere il brand Mineral Plex. Perché io in questo momento associo il brand Mineral Plex con confusione. Quindi se Mineral Plex un giorno mi fa una campagna pubblicitaria, io sono confuso. Magari mi interessa perché l'unica cosa che mi dà fiducia in questo sito è Anita, che ha un bellissima foto, mi dice Medicina funzionale integrata, membro del GSMI, accogliendo clienti, consulenze personalizzate. Bene, Anita, mettimelo sopra. Dammi fiducia subito. Sono Anita e mi occupo di XYZ. Attraverso Mineral Plex, che è un sistema basato sui minerali, quindi c'è un problema di successione strategica delle informazioni qua. Sì, bisogna solamente fare chiarezza in questo sito. Bisogna pimparlo a livello grafico, assolutamente. Anche queste foto, tranne questa che è molto molto bella, le altre sono migliorabili. E soprattutto capire cosa vogliamo vendere in primo piano. Cioè ci deve essere sempre un'offerta front, che deve essere la prima roba che vendi. E poi sotto tutte le altre, o le altre che neanche le metti se non sono una fonte di reddito importante per te. Quindi facciamo chiarezza su cosa è il nostro prodotto principale da spingere. E poi dopo magari vendiamo gli altri una volta che abbiamo acquisito il cliente o una volta che viene in chiamata con noi. Quindi questo è un sito assolutamente da sistemare. Come sempre noi lasciamo in descrizione i nostri contatti. Se avete bisogno di aiuto, io questo sito per noi sarebbe un piacere prenderlo, sistemarlo, pimparlo per bene e renderlo un sito ad alta conversione per potenziare il brand di Mineral Plex perché così purtroppo rischia davvero di portare fuori strada il visitatore che entra. Ovviamente la qualità è fuori da ogni dubbio di quello che fate, ma il sito rischia di portare l'utente a perdersi. Esatto, questo è PinMyWebsite, l'unico show su YouTube che ti parla chiaro su cosa non funziona sul tuo sito web. Io sono Fabio Gallerani, lui è Matteo Pittaluga e dal 2016 formiamo imprenditori professionisti a fatturare di più sul web attraverso il digital e strategie che funzionano online. Detto questo è tutto, grazie per aver partecipato a questo show. Un abbraccio. A presto, ciao. Ciao. Ciao.